Partenza sotto la pioggia per 1500 alla fontana di Barcola, distanziamento al via con mascherine per la prima parte di corsa e poi sotto e la Trieste Half Marathon. Lungo la riviera, mentre le onde si infrangono sui topolini, si vedono centinaia di cappellini, questa volta però antigoccia e non per ripararsi dal sole. Per entrare in ritmo poi ci sono pure le percussioni della banda Berimbau. Sgranato il gruppo ed entrati nel vivo della corsa, questa volta le sorprese davvero non mancano. Al traguardo in campo maschile ci si aspettava Said Elotmani, l'italo-marocchino che corre per l'esercito, invece dopo una lunga volata è stato l'outsider Michele Palamini a imporsi con un tempo di un'ora, 4 minuti e 37 secondi. Una vera e propria sorpresa per il portacolori del gruppo alpinistico vertovese che tra gli otto che avevano preso il largo nella prima metà gara era il meno pronosticabile. Dopo il giro di boa al bivio di Aurisina però Palamini ha via via scremato i contendenti. Al diciannovesimo chilometro non teneva più il ritmo Icambufar, terzo al traguardo, mentre a 500 metri pure Elotmani, reduce dalla maratona di Siena non ha più retto la volata di Palamini. A trionfare tra le donne con una dinamica di gara molto simile a quella degli uomini è stata la burundiana Francine Gnomucunzi dell'Atletica Castello con un tempo di un'ora, 13 minuti e 55 secondi, mettendo in fila rispettivamente la vincitrice della Muglia Longa Belai Tejeng e la ruandese Adeline Musabeiezu. Venendo ai corridori nostrani, il primo regionale è stato Abdullah Bamussa dell'Atletica Bruniera che dopo aver vestito la maglia azzurra alle Olimpiadi di Rio ora insegue un altro sogno olimpico nella 3000 Siepi e si allena proprio in gare del genere. C'è poi la bella storia collegata al primo triestino, lo juniores Jacob Kral, 43esimo ex cestista del BOR, rimasto senza squadra per le conseguenze anche sportive del Covid, passato alla corsa e vicino al muro dell'ora e venti nella prima mezza maratona disputata. In rosa la migliore runner rostrana è stata una brillante Caterina Stenta della Trieste Atletica, sportiva eclettica, capace di distinguersi soprattutto nel Sup Stand Up Paddle di cui è pluricampionessa italiana, arrivata a dodicesima al traguardo. Un altro appuntamento riuscito insomma sotto l'organizzazione di api di Miramar e Trieste Atletica e l'anno prossimo torna alla Bavisela. Grazie a tutti.